allora iniziamo a divertirci creiamo qui dentro una nuova directory assets e poi qui dentro creiamo una nuova directory images quindi abbiamo creato una nuova cartella qui dentro ora scusate un attimo portiamo delle immagini che ho già preparato eccole qui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ok le importiamo qua dentro dovrebbe averle importate eccole qua e le rinominiamo refactor name 1 e 7 ora per andare a mettere queste immagini nella nostra applicazione intanto dovremmo fermarla e poi dobbiamo andare a prenderci il nostro pubspec YAML ok vi ricordate l'abbiamo visto all'inizio qui tra le varie sezioni tra le varie cose c'è per aggiungere degli assets gli assets ad esempio sono appunto delle immagini dei font dell'icone ok quindi qui allora qui dobbiamo commentare ecco qui ovviamente siamo nello YAML quindi deve essere sapete che nello YAML l'intentazione è importante qui vogliamo importare vogliamo dire di importare le nostre immagini che abbiamo messo in assets images quindi qui scriviamo assets immagini facendo così stiamo dicendo di importare tutte le immagini che sono qui dentro nel caso in cui invece non usate tutte quante le immagini ve lo sconsiglio la vostra applicazione diventerà più grande e importerete delle immagini magari che non vi aiutano non vi servono ok rilanciamo la nostra applicazione quindi qui praticamente abbiamo detto di importare tutte quante le immagini di importare di includere nell'appicchetto che poi andremo a rilasciare quindi andiamo a importarlo lanciamo la nostra applicazione e quindi il container gradient al momento commentiamo un attimino questo text commentiamo questo text e facciamo image punto e assets assets significa fammi vedere un'immagine prendendola dagli assets gli assets è quello che abbiamo importato prima nel nostro YAML ok e qui mettiamo 1.jpeg ora se abbiamo fatto tutto quanto bene vediamo e non l'abbiamo fatto bene non l'abbiamo fatto bene perché dobbiamo dirgli il percorso quindi dobbiamo dirgli esattamente dove si trova assets barra images abbiamo chiamato images o images barra 1.jpeg adesso riproviamo eccolo il nostro pupazzetto come vedete l'immagine viene creata qui ovviamente magari così un po' troppo grande possiamo dirgli una larghezza di 220 pixel ok tanto vediamo 220 perfetto ok carino abbiamo aggiunto la nostra prima questa prima immagine ok vogliamo cosa vogliamo fare in questa applicazione per concludere la serata vogliamo metterci un bottone speriamo di riuscire ad arrivarci e metterci un bottone ogni volta che premo un bottone compaia a caso una di queste sette immagini ok molto molto semplice ora per mettere un bottone ok dobbiamo per impilarlo dobbiamo introdurre un altro widget se andiamo a vedere come vi ho fatto a vedere prima su flutter dev il layout c'è in arrivare il layout c'è column ok column tra le varie property che c'ha il column l'essenziale l'essenziale è children infatti qui potremmo mettere una lista di widget ok quindi ad esempio il primo che andiamo a mettere è proprio questo image ora nei layout abbiamo column che serve per impilare in modo verticale row invece serve per impilare in modo orizzontale quindi ci mettiamo l'image e poi qui ci mettiamo un elevated button ora lasciamo perdere per il momento questo on pressed qui ci mettiamo questo text ok perché come child vedete è un bottone e c'ha bisogno di un child qui potremmo mettere qualunque cosa ma noi ci mettiamo un testo se adesso salviamo e andiamo a fare refresh ecco qui ci abbiamo un bottone che è disabilitato perché disabilitato perché questo on pressed l'abbiamo marcato come null che cos'è l'on pressed è una funzione che viene invocata quando noi andremo a cliccare il bottone quindi per definire una funzione in line con dart qui mettiamo parentesi tonda parentesi tonda graffa graffa ok quindi abbiamo definito una funzione che deve essere invocata quando premo il pressed ok già che ci siamo facciamo un print così vediamo button pressed ok quindi andremo a verificare se effettivamente quando io premo il bottone effettivamente vedrò intanto vedete ha cambiato colore perché è diventato bianco e se lo premo vedete button pressed e quindi viene invocata questa funzione vedete ok del elevated button posso anche in questo caso riformatiamo il codice perfetto qui mi sta dicendo di mettere un cost mettiamo così non vediamo più le scritte brutte qui ci mettiamo una virgola alla fine proprio per identare il nostro codice faratter e anche qui reformat ok benissimo abbiamo identato finalmente il nostro codice ok ora vogliamo che premendo questo pulsante cambi l'immagine che vediamo non ne lo so intanto vedete è andato tutto quanto su un po' bruttino e il column ha la possibilità di dire come orientare i nostri widget se noi andiamo a vedere c'è il main axis e il cross axis allora siccome siamo in in column quindi siamo in verticale il main axis determina l'allineamento in verticale il cross axis invece determina l'allineamento per il column e l'allineamento in orizzontale quindi volendo centrare di nuovo i nostri elementi diciamo main axis main axis alignment center adesso salviamo e andiamo a fare un reload eccolo qua l'ha centrato poi il bottone magari lo vogliamo spaziare un attimino dall'immagine qui vi faccio vedere un altro widget size box possiamo dirgli un 8 eccolo qua e diciamo di essere distante 10 pixel 10 pixel della nostra applicazione infatti non è determinato se vado a vedere 8 a parte che mi dice di aggiungere il cost lo aggiungiamo se andiamo a vedere 8 mi dice è l'altezza ok vabbè sappiate che comunque sia che è tipo 10 pixel ok diciamo 10 pixel ma non è 10 pixel ok quindi abbiamo spaziato perfetto ora l'elevated button questo qui possiamo anche stilizzarlo un attimino a parte che non mi piace questo vabbè lasciamolo così stilizziamolo ok magari qui ci possiamo fare uno style in questo caso ed era quello che facevo prima ma mi sbagliavo vedete style from significa che mi fa lo style crea uno style a partire dal tema che stiamo usando ma lo vedremo dopo dai lo vedremo una prossima volta comunque sappiate che dobbiamo fare style from a questo punto possiamo degli background color ad esempio colors punto orange così diamo un aspetto molto più vivace andiamo a vedere ecco qui un orange benissimo quindi abbiamo dato un colore qui poi possiamo customizzare altre cose però in questo momento lasciamo qui allora andiamo alla ciccia alla ciccia del nostro codice dobbiamo cambiare l'immagine allora la prima cosa che dovremmo fare noi siamo programmatori è definire una variabile par image uguale qui definiamo questa cosa qui definiamo ecco qua ovviamente mi dice guarda che però non puoi definire un costruttore costo perché perché abbiamo un'immagine questa variabile questa variabile che andremo a cambiare durante il codice quindi questo non può essere costa una cosa perché verrà un po' il modificato oltretutto proprio la grafica perché aggiorneremo questa questa immagine ok infatti mi sta dando errore qui perché qui non c'è più l'immagine quindi andiamo a prendere questa image anzi chiamiamolo current image current image ok la mettiamo qua current image ok quindi il container va bene sul main abbiamo un errore perché abbiamo messo il const eliminiamolo ok e qui lasciamo così va bene qui facciamo change image è un po' assurdo che metto la scritta del bottone da qua per farlo vedere qua sotto vabbè però tanto per imparare qui mi sta dicendo che la classe non può essere una constant ma credo che sia perché non l'avevo salvato rilanciamo ok è andato tutto quanto bene perfetto a questo punto che valciamo al press qui del pulsante oltre a farlo vedere qui nel log che abbiamo match magari nel press ok qui ci mettiamo current image uguale e andiamo a copiare questo e ci mettiamo guarda la seconda immagine andiamo a vedere quella della seconda immagine ok lasciamo lo stesso il print button pressed ok ricarichiamo tutto se è ricaricato premo il pulsante il pulsante è premuto però l'immagine non è cambiata non è cambiata perché? perché non è cambiata? questo è il meccanismo diciamo di render di flutter quando noi avete visto prima abbiamo creato questa classe estendendola come stateless quindi stiamo dicendo che questa classe non ha stato flutter funziona con gli stati quindi se vogliamo cambiare una variabile all'interno della nostra classe non dovremo usare un widget di tipo stateless ma dovremo usare un widget di tipo stateful ok perché? perché ad ogni cambiamento della variabile dobbiamo dire a flutter rifà il build cioè ricostruisci la grafica ora senza cambiare questo widget da stateless a stateful creiamo un altro componente qui ok quindi dart file e chiameremo image image changer ok image changer cioè sarà un widget dove praticamente è il container gradient con la possibilità di cambiare l'immagine ok benissimo ora nel image changer lasciatemi questo lo copiamo qui perfetto e qui facciamo class 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 image changer extens come prima ma invece di usare lo stateless usiamo lo stateful stateful widget ok ora chi mi sta dicendo guarda che manca come prima qualcosa creiamo il override e qui c'è il il primo cambiamento allora tanto vedete mi sta dicendo lo state di quale widget di image changer cioè stiamo creando lo stato di questo widget che è quello che abbiamo creato ok qui mi sta dicendo l'implementazione dello stato in realtà quello che noi facciamo è creare qui un'altra classe class underscore image changer state extens che cosa state di image changer notate state image changer state image ok ora a questo punto qui vi diciamo che questo mi sta dando un errore perché gli manca a sua volta un override e guardate un po' è l'override come avevamo prima con lo stateless solo che adesso questo gestisce lo stato di image changer ok quindi è uno stateful widget dove definisce un create state che crea questa classe quindi in realtà le variabili di stato le creeremo qui poi approfondiremo meglio nelle prossime lezioni approfondiremo meglio gli stateful widget ok ovviamente qui l'abbiamo fatto a mano se non ricordo male stful eccolo qua ci permette di crearlo molto facilmente ve lo faccio rivedere così stful è uno snippet qui lo chiamiamo image changer ok e qui mi da il build col placeholder quindi lo state crea questa nuova classe che estende state c'ha il build e a questo punto che facciamo andiamo sul container ci andiamo a prendere praticamente che cosa quello che cambia quello che dovrà cambiare con anche il bottone quindi io direi di prendermi tutto quanto il column ok andiamo qui return questo ora qui mi darà current image questa variabile lo prendiamo lo mettiamo qua ok cosa succede è che definendo questa variabile all'interno dello state image changer questa variabile diventa una variabile di stato invece di var possiamo anche mettere anche string ok però è più semplice mettere var ok quindi current image abbiamo la stringa e abbiamo questo a questo punto qui abbiamo il testo in questo momento mettiamolo così press button to change image press button se no è stata fuori troppo grande che altri errori qui c'è qui non è una virgola ma è un punto e virgola perfetto e quindi abbiamo current image eccetera qui dobbiamo sistemare importare il nostro nuovo widget quindi qui image changer ok l'ha portato sì ok ora facciamo un reload press button ok quindi abbiamo separato e abbiamo messo una variabile mettendola dentro lo state stiamo dicendo che diventerà una variabile di stato ora quello che noi ci aspetteremo è visto che qui quando premiamo il bottone abbiamo segnato di nuovo una nuova immagine se lo premiamo ci aspettiamo che cambi l'immagine lo premiamo e ancora non va sembra un errore ma in realtà noi dobbiamo dire a flutter che c'è un cambiamento di stato ok un'assiniazione così da variabile la variabile cambierà sì il valore ma dobbiamo dirgli a flutter che c'è un cambiamento di stato abbiamo fatto questa cosa qui perché perché quando facciamo le stand state di image changer qui ci dà la possibilità di fare set state eccolo qui facendo il tab si autocompleta e a questo punto possiamo spostare il current image così se adesso ricarichiamo il tutto tada guardate è cambiata l'immagine facciamo un hot reload quindi partiamo dall'inizio abbiamo questa immagine premo il bottone salta fuori questo queste immagini ragazzi le abbiamo create io le mie figlie e mia sorella una sera che volevamo provare l'intelligenza artificiale sulla creazione delle immagini queste sono quelle i risultati ok carine ok e quindi vedete facendo set state diciamo flutter guarda che c'è un cambiamento di stato settiamo la variabile a un nuovo stato a questo punto cosa vogliamo fare vogliamo dare la possibilità che queste immagini siano un tipo randomico ok allora vi faccio vedere un import art due punti mat come potete vedere non facciamo il package flutter ma andiamo proprio al core di dart in questo caso in math in math dart abbiamo la classe random ok quindi possiamo usare praticamente il randomizer ok quindi qui possiamo fare var rnd uguale random punto era random ehm sì è random la classe quindi dobbiamo invocare il costruttore per crearci un random punto next int allora next int se andiamo a vedere la documentazione ci dice che ci genera un numero intero con next int ma c'è anche next double ci stanno anche altre si dice che ci da un numero intero e il max è il valore massimo ok con il to max escluso quindi se io metto 10 mi genererà i numeri mi darà un numero casuale tra 0 e 9 nel nostro caso abbiamo 7 quindi abbiamo 7 immagini quindi qui gli dico dammi un numero casuale di 7 quindi mi darà da 0 a 6 e qui gli dico poi più 1 ok quindi faccio la somma e quindi in current image number ok gli diamo un numero avremo un numero casuale a questo punto dobbiamo sostituirlo al current image per avere un'immagine casuale e qui faccio dollaro current image number è come se fosse una string interpolation praticamente lui che concatena la stringa mettendoci il valore del current image all'interno di questa mia stringa salviamo il tutto facciamo un otro reload e a questo punto ogni volta che premo un bottone avrò un'immagine casuale adesso mi da sempre la stessa immagine vedete quindi mi da sempre la stessa immagine chissà perché ecco qui un'altra ok genera un numero casuale ogni volta che premo mi fa vedere un'immagine casuale va bene ragazzi studiate a casa vedete di ripetervi se avete altri dubbi potete scrivermi in chat potete anche quando non sono presente ragazzi buona serata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti